Oggi è la diciassantesima vittoria utile e consecutiva del campionato di basket a segre C-Silver nella sesta di ritorno con sofferenza. I Biancazzumi, allenati da Gigi Maritelli nel giorno del suo compleanno, hanno battuto con il punteggio di 94-90 una gestistica a studi che non ha mai mollato dal primo minuto, dal primo quarto, riuscendo quantomeno ad andare vicina alla squadra capolista del torneo che però non ha smesso di mollare e se l'è portata a casa questa vittoria. Ma in questo momento pesa anche l'importunio capitato adesso Anne Cooper a pochi secondi dalla fine della gara. Adesso bisogna cercare di capire quali saranno l'importunio, quel che è certo è che per il momento la vittoria sta a dettare legge. E adesso rende a vista la tua gara.